Guarda com'è elegante, questa volta abbiamo con noi Lucio Cecchinello. Facci il nodo alla cravatta! Ecco esatto, fatti il nodo alla cravatta. Vuoi sapere la verità? È che il problema è che quando sei giù dalla moto per tanto tempo, risale sulla moto e se ti va bene giri a 10 secondi circa da un tempo decente. Allora dico, ma se io devo fare questa figura di merda così, cosa faccio? Che non la provo? C'è tanto che tu sei già sicuro che la fai. Ma sì, ma dove che vada? No, perché ci sono tanti giornalisti tester che provano la motocicletta, prendono 30 secondi. Poi dicono, però in quel curvone in effetti non è un po' dura. Sì, perché poi la moto inserisce bene, quell'altra invece è più cambio di direzione, ma cosa è stato disegno? Allora assumiamo Lucio a GP1, gli diamo un lavoro serio finalmente, smette di giocare col team, queste cose qua, che è ora che insomma un'età, è un lavoro serio, lo vediamo come testo. Qua è accesa, è spenta, io non capisco più il cazzo. Io sono tettonico, c'è rosso? È rosso, è rosso. È rosso. Grazie a tutti.